Noto incidente stradale, perde la vita un 38enne, procura apre inchiesta. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale riferito all'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale tra Noto e Avola dove ha perso la vita un 38enne di origine polacca. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, lo scooter sul quale si trovava l'uomo, per causa ancora da accertare, si è scontrato con un trattore che proveniva dalla direzione opposta. Il 38enne ha boccato la rotonda quando non ha potuto fare a meno di evitare il mezzo agricolo che si pregiungeva. Lo scontro tra i due veicoli è stato violento e il malcapitato 38enne è stato sbalzato dalla moto per rovinare sull'asfalto. Il polacca è stato soccorso da alcuni passanti ma sembra sia morto prima dell'arrivo dei sanitari. Indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze per cercare di capire cosa sia successo.